La prossima settimana la Filca Cisla dell'Aquila avvierà una serie di iniziative di informazione rivolte a lavoratori e aziende per capire quali misure vanno adottate per combattere il caldo nei cantieri. Il sindacalista Angelo Petricone ha fatto sapere di voler portare avanti una serie di iniziative per aiutare aziende e dipendenti ad affrontare rischi legati al caldo e anche per migliorare la salute e la sicurezza nei cantieri edili soprattutto nel periodo estivo. L'Aquila del resto si sa il cantiere più grande d'Europa con tanti interventi ancora in corso. Il sindacato ha avanzato diverse proposte, modificare ad esempio gli orari di lavoro in estate per evitare che gli operai lavorino le ore più calde sotto al sole, pause di lavoro più frequenti rispetto alle attuali aree di ristoro con ombra organizzate, una specifica formazione sui rischi legati al caldo e un monitoraggio continuo delle condizioni climatiche. Il tutto nell'ottica di una collaborazione ovviamente con le imprese che operano il territorio. L'obiettivo è proteggere i lavoratori dal caldo estremo ma mantenere la produttività aziendale. Operai, ingegneri, geometri, architetti e chiunque frequenti i cantieri edili per lavoro rischiano grosso poiché essendo già un lavoro faticoso e usurante di per sé farlo con una temperatura troppo elevata potrebbe causare addirittura uno shock termico per questo per i sindacati è importante che ci siano delle regole ben precise da seguire. Su questo tema anche altri sindacati sono intervenuti nel tempo anche per spingere il governo ad agire con decreti e spesso pure l'ispettorato del lavoro ha insistito sul tema sicurezza nei cantieri con il caldo.